Incendio all'alba di oggi nel Macrolotto 2, la zona industriale della parte est di Prato. Le fiamme hanno attaccato, avvolto e distrutto completamente un'azienda di logistica a gestione cinese in via Nottingham. L'allarme al comando provinciale dei vigili del fuoco è arrivato intorno alle 4.40 da alcuni automobilisti di passaggio. Siamo intervenuti immediatamente, l'incendio era già molto esteso, siamo intervenuti con due squadre, Prato e Montemurlo, con le botti, con le chilolitriche per avere supporto di acqua. Abbiamo chiesto il supporto ai colleghi di Pistoia di Firenze. Grazie a questo massiccio intervento di forze siamo riusciti a domare l'incendio e a far sì che nel giro di un paio d'ore le fiamme fossero sotto controllo. Visibili anche a chilometri di distanza le spaventose lingue di fuoco, il denso fumo nero che si è propagato in tutta l'area richiedendo l'arrivo anche della polizia municipale e del 118 in via precauzionale. Il logo ha cancellato la logistica Xin Shundal numero 12 di via Nottingham, una delle strade principali del macrolotto 2 al confine con il comune di Campi Bisenzio. Il materiale all'interno è stato coinvolto praticamente tutto. Presto per fare ipotesi sulle cause del devastante incendio, la polizia giudiziaria dei vigili del fuoco e i carabinieri che hanno già fatto un primo sopralluogo ne faranno di nuovi nelle prossime ore. Prima finiamo le attività di istinzione e poi si faranno le opportune analisi. Importanti, se dovesse essercene bisogno, saranno le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona. Praticamente tutte le aziende sono dotate di sistemi di videosorveglianza. La comandante dei vigili del fuoco è rimasta a lungo sul posto per coordinare l'intervento delle sue squadre e aggiornare la procura che aprirà un'inchiesta appena saranno disponibili le prime relazioni.